Andrete da soli a parlare con Giorgia Menoni o no? Ma no, noi andremo come opposizioni, l'incontro l'abbiamo chiesto a nome delle opposizioni, l'abbiamo chiesto pubblicamente, io ringrazio la Presidente del Consiglio per la risposta che ci ha dato, dobbiamo fare un lavoro, stiamo cercando di fare un lavoro per tenere agganciato sia il Governo, quindi la Presidente del Consiglio, sia le altre opposizioni. Perché? Possiamo avere due approcci di nuovo sul salario minimo, andare dritti e veder bocciata la norma sul salario minimo, e poi farne una bandiera di slogan ideologico, oppure, è quello che ci interessa a noi, aprire un tavolo con la maggioranza che ha levato l'emendamento soppressivo del salario minimo e cercare di lavorarci insieme per capire cosa si può fare e quali sono le loro idee. E' chiaro che questo vuol dire mettersi in una modalità che è costruttiva, diceva Luigi Einaudi, scopo dell'opposizione è vedere approvato almeno un emendamento, perché se no si sta cinque anni in Parlamento facendo grandi proclami ma non riuscendo ad operare nulla. Noi non facciamo questo. Noi se siamo favorevoli al salario minimo lo diciamo e ci lavoriamo, se siamo favorevoli all'abolizione dell'abuso d'ufficio lo votiamo, perché non ci interessa chi presenta il provvedimento, ci interessa la validità.